Ciao, benvenuto in questa nuova lezione dedicato all'HTML. Io sono Michele e in questo video vediamo perché l'HTML è importante, a cosa serve e ne apprendiamo le basi in maniera tale che tu possa andare avanti con l'approfondimento in autonomia. Bene, allora entriamo nell'ambiente di sviluppo dove ho scritto un po' di appunti e vediamo che cos'è l'HTML per comprenderne le basi e poi poter essere in grado di imparare autonomamente ulteriori concetti un po' più avanzati. Allora l'HTML, lo vediamo, è il linguaggio standard per creare pagine web, va a braccetto con CSS e JavaScript, sono le tre tecnologie portanti per la creazione di pagine web moderne. HTML significa Hypertext Markup Language, quindi è un linguaggio di markup, non è un linguaggio vero e proprio dove diamo delle istruzioni per creare un programma, ma diamo delle istruzioni tramite dei tag, tramite delle indicazioni in un documento che servono per creare un documento ipertestuale, cioè non solo dove troviamo il testo ma troviamo anche immagini, collegamenti ad altre pagine, video e così via. L'HTML descrive la struttura di una pagina web, dopo vediamo un po' meglio qui sotto, però sostanzialmente ci dà un'idea di come sono posizionati gli elementi all'interno di una pagina web, un po' come un progetto di un geometro, un architetto potrebbe descrivere la struttura di una casa con la posizione delle stanze, dei muri portanti e così via. Non ci dà per esempio l'estetica, il colore dei muri. HTML consiste in una serie di elementi, gli elementi sono così, sono questi tag o elementi, ce ne sono tantissimi, oggi ne vedremo i più utilizzati, quelli base, e poi metterò un link sotto alla documentazione completa ufficiale dell'HTML dove potrai esplorare in autonomia tutti quelli restanti e fare tutti gli esperimenti che vuoi. HTML dice al browser, guarda qui ho beccato anche un errore, come mostrare i contenuti, lo vado a modificare perché non mi piace mostrare i contenuti, oh molto bene, quindi ci dice come mostrarli in termini di come sono i risposizionati nella pagina uno rispetto all'altro. E l'HTML ci serve anche per etichettare o categorizzare i contenuti, mi spiego meglio, tipo spiega al browser che è quel programma, Safari, Edge, Firefox, Chrome, è un browser che prende l'HTML, lo interpreta e gli dà una rappresentazione testale o grafica. e ci aiuta a definire, a dichiarare al browser quali sono le intestazioni della pagina, quali sono i link, quali sono le immagini e come trattarle. Qui sotto abbiamo un esempio, lo ingrandisco un po' di più, di come dobbiamo pensare a una pagina HTML in termini di organizzazione del contenuto. Allora, una pagina, un documento HTML inizia sempre per HTML e poi lo vedremo nella specifica HTML5, adesso c'è anche la 5.2 però è un dettaglio, come scriverlo nella maniera più appropriata però l'elemento, il tag HTML dà inizio a un documento, a una pagina HTML. Abbiamo poi l'intestazione che è descritta dall'elemento, questa è l'apertura del hit e questa è la sua chiusura, quindi un tag HTML, un elemento si apre con questa sintassia parentesi uncinate e si chiude sempre con le parentesi uncinate ma con una barra prima del nome dell'elemento. All'interno dell'intestazione vivono tutta una serie di elementi, il più famoso è sicuramente il titolo che è quello che vedi in alto nella barra del browser ma tipicamente vivono anche tutta una serie di elementi che servono per descrivere la pagina, dare informazioni aggiuntive alla pagina, per esempio le parole chiave del contenuto informazioni per i motori di ricerca, per i browser per capire meglio come interpretare la pagina e così via. All'interno della sezione dell'elemento body abbiamo quello che è il corpo del documento, quindi il contenuto vero e proprio dove andremo ad utilizzare tutti gli elementi che ci servono per rappresentare quello che vogliamo. Le intestazioni sono gli H dall'1 fino al 6, i paragrafi, le tabelle, le immagini e i link ad altri, poi li vedremo i più famosi. Alla fine chiudiamo il corpo del documento e chiudiamo il documento nella sua interezza. Tra i tag più utilizzati possiamo sicuramente iniziare con gli H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che servono per definire le intestazioni del documento, le varie intestazioni. H1 sono quelli più grandi, dall'1 mano a mano che andiamo verso il 6 il test sarà sempre più piccolo. Facciamo un esempio, lo scriviamo H2 così vediamo la differenza e poi apriamo un browser e vediamo subito come funziona. Intestazione 1 e qui lo scriviamo intestazione 2. Salvo, ora posso prendere il mio file index.html e aprirlo in un browser che ho io pronto qui sotto. ok, F5, ok, qui mi è scappato un 1, lo vado a pulire, salvo, aggiorno la pagina, eccola qua, vediamo come intestazione 1 e intestazione 2 sono delle intestazioni ma l'H1 è la più grande e l'H2 è la più piccola. Un'altra cosa che posso utilizzare, di solito in mezzo alle intestazioni, sono i paragrafi, quindi il mio paragrafo dove spiego cose o c'è il contenuto del mio documento, insomma un paragrafo di testo. faccio un normale paragrafo di testo, torno nel browser, faccio F5 ed ecco qui il mio testo, lo vediamo qua. Quindi abbiamo visto il H e abbiamo visto le P. Un'altra cosa che si fa di frequente è quella di inserire le immagini, per inserire le immagini si usa il tag, l'elemento img. L'elemento img vuole l'attributo src, quindi il sorgente, il percorso dove andare a trovare l'immagine e poi lo chiudiamo. Allora adesso vado a recuperare un'immagine, torno subito, ecco qui, allora ho appena messo nella cartella vicino dove ho la pagina index.html, ho messo un'immagine e qui posso scrivere quindi scuola.jpeg, salvo, ctrl-s il documento, qui F5 e ho l'immagine, è un'immagine decisamente grande e ho qui sotto l'immagine. Un'altra cosa che possiamo fare, quindi abbiamo visto il tag img, però è un'immagine totalmente grande e quello che posso fare è rimpicciolirla. Per rimpicciolire un'immagine posso utilizzare le sue proprietà altezza, height e gli metto tipo 100 pixel, larghezza, width, ora rovinerò tutte le proporzioni, salvo, torno nel mio browser, faccio F5 ed ecco che ho qui l'immagine rimpicciolita, questa non è una grandissima pratica perché a tutti gli effetti ho scaricato un'immagine molto grande e poi l'ho rimpicciolita con le istruzioni del browser, bisognerebbe averla proprio già piccola di origine in maniera tale da risparmiare banda durante il trasferimento della pagina stessa. Abbiamo visto img, voglio mettere adesso un collegamento ipertestuale, quindi clicco e mi sposto su un'altra pagina. Per esempio lo metto qui, vedere qui per ulteriori informazioni, dove magari vado a mettere il link, a linkare una pagina di approfondimento e vorrei che il vedere qui fosse un link, allora come faccio? Utilizzo il tag A che sta per anchor, ancora, intanto lo chiudo è un tag che ha l'apertura e la chiusura, scrivo vedere qui e il link alla pagina sta sull'attributo href e per esempio, vabbè, https, due punti, barra, barra, ok, facciamo www.ferrari.com e mandiamo, qui dobbiamo mettere proprio il link alla risorsa esterna, o anche interna comunque al nostro sito all'altra risorsa a cui vogliamo rimandare la navigazione. Cose interessanti, quindi mi sposto di nuovo nel mio browser, F5, ho un vedere qui per ulteriori informazioni come vediamo è un collegamento ipertestuale perché è sottolineato blu, colore predefinito mi sposto ed ecco che vado sul sito della Ferrari, torno indietro, ritorno dentro Visual Studio Altre cose che possiamo fare con l'HTML, tra le più comuni, sono quelle di organizzare il contenuto in tabelle che si fa con l'elemento table, così. All'interno di tabelle posso definire colonne e righe quindi table column e table rows. Facciamo per esempio i partecipanti a un corso di programmazione web si tende a ragionare per righe, quindi metto in TR e le prime righe magari le faccio come table header quindi in testazioni saranno evidenziate in maniera particolare, quindi metto il cognome del partecipante poi voglio il nome e basta. Cognome e nome del partecipante, non saprei cosa inventarmi per un terza colonna su due piedi, poi faccio un'altra riga e metto il primo partecipante al corso solo che non uso più TH come table header ma uso un TD che mi identifica il dato che voglio mettere e quindi metto cognome Ferracin e poi sotto metto Michele salvo la pagina, faccio un refresh sul browser, faccio un refresh sul browser e abbiamo il dato in forma tabellare mettiamone un altro per completezza, copio questa sezione, la incollo e scrivo Mario o meglio Rossi Mario sulle tabelle ritorno qui, faccio F5 e ho il mio dato talebellato sulle tabelle ci sono tantissime proprietà e attributi su cui poter lavorare metto il link alla definizione completa dell'elemento table, TR, TH, T, D e compagnia un altro elemento molto utilizzato è il div che serve per definire sezioni di contenuto il div non ha una rappresentazione visuale, cioè se io adesso metto il div è intorno al table salvo, ritorno nella mia pagina, non è cambiato niente esteticamente facendo l'ispezione della pagina, comunque il mio div è stato recepito correttamente il div serve tipicamente appunto per definire sezioni della pagina dandogli un nome con un i con l'attributo id la mia sezione e questo diventa particolarmente utile quando lo si combina con CSS quindi il foglio di stile per definire attributi estetici per magari voler dire che questa tabella all'interno della mia sezione prende dei colori delle forme, delle dimensioni o dei margini ben specifici che possono essere diversi da una tabella in un'altra sezione il div è anche utilizzato molto quando si lavora con il javascript quindi mi permette di identificare sezioni del mio documento che io posso richiamare in maniera programmatica quindi da righe di codice di javascript in maniera molto facile e puntuale perché ho un id di riferimento infine un'ultima cosa che possiamo fare per passare tra i tag più importanti è quello di nominare l'elemento form l'elemento form serve per rappresentare una collezione di elementi che servono per raccogliere dell'input utente l'utente può modificare delle cose che noi proponiamo oppure inserire del testo libero e poi inviare i dati a un server questo tutorial non copre la parte di come elaborare i dati lato server però possiamo fare un veloce esempio di come raccogliere il nome e cognome di una persona quindi per il form dichiara come il body l'inizio e la fine del contenuto del corpo di una pagina HTML il form dichiara l'inizio e la fine di quello che è il nostro modulo di raccolta dati come possiamo raccogliere il nome e il cognome di una persona? beh allora per raccogliere gli input si aprono e si utilizzano gli elementi input poi abbiamo il type e diciamo che cosa vogliamo vogliamo del testo e basta semplicemente poi cosa facciamo? gli diamo un id che ci viene comodo per attaccare una label e facciamo cognome qui poi utilizziamo l'elemento label e gli andiamo a dire, gli dobbiamo dire per quale elemento di input andiamo a appiccicarci un'etichetta così vedremo etichetta e campo di testo etichetta e campo di testo for si utilizza for e utilizziamo gli id cognome in questa maniera poi dobbiamo mettere il valore dell'etichetta all'interno dell'elemento quindi cognome, due punti faccio la stessa cosa con un copia e incolla per il nome d'accordo? e posto di cognome scrivo nome qui al posto di cognome scrivo nome e qui al posto di cognome scrivo nome ora queste due cose mi vengono completamente attaccate qui sotto se le volessi, eccole qui il nostro form una sotto all'altra dovrei mettere un'interruzione di linea che si fa con il br eccolo qui eccoci con il br salvo torno sulla pagina aggiorno e gli ho uno a capo però ho fatto una stupidaggine ho messo prima il campo e poi l'etichetta quindi li inverto li metto così giustamente il browser fa esattamente ciò che gli diciamo noi eccolo qua abbiamo cognome e nome a questo punto mi manca un pulsante per esempio per inviare il dato e lo mettiamo subito per inviare ovvero fare il submit in linguaggio tecnico facciamo così l'input type è input type submit di solito viene renderizzato con un pulsante e facciamo ci scriviamo dentro invia modulo qualcosa del genere ok a questo punto abbiamo che cosa che salvo torno di qua faccio un F5 ho l'invia modulo in questo modo quando premo mi si aggiorna semplicemente la pagina cercando di inviare dati al server per più grande in questo video abbiamo visto parecchi concetti la struttura di una pagina HTML5 cosa ci va nel header cosa ci va nel body e all'interno del body abbiamo visto i tag più frequentemente utilizzati le intestazioni gli H1 dall'1 al 6 i div per creare delle sezioni con un nome ben specifico da poter riutilizzare e referenziare poi le tabelle creando colonne e righe i paragrafi come inserire elementi multimediali tipo i video e in particolare i form poi per raccogliere dati input dall'utente quindi metterò nella descrizione delle pagine di approfondimento della guida del linguaggio HTML ufficiale se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile in qualche modo metti un mi piace iscriviti alla pagina così sarai notificato quando avremo nuovi video ciao ciao